Giovannino Perdigiorno di Carla Gatto, tratto dai viaggi di Giovannino Perdigiorno di Gianni Rodari. Giovannino era un tipo davvero strano, magro e allampanato, aveva un naso prominente e una grande bocca. Aveva bisogno degli occhiali a causa della sua miopia, ma vergognandosi di portare spesse lenti con fare non curante, adoperava soltanto un monocolo per fissare meglio gli oggetti. I suoi capelli biondicci e lisci come tagliatelle gli arrivavano fino alle spalle, quel tanto da accarezzargli il collo e la camicia. Vestiva elegante, ma con un gusto un po' retro, calzava sempre scarpe comode ed eleganti, ma per via di quei suoi grandi piedi dovevano essere abbondanti. Il 48 era il suo numero, ma preferiva un numeretto in più, caso mai quei suoi strani piedi dovessero crescere ancora. Per darsi un'aria da dendi, portava un bastone dall'impugnatura elaborata, quasi preziosa. Aveva infatti una testa in onice. I suoi genitori potevano mantenerlo anche senza lavorare. Lui naturalmente ne approfittava e per questo era soprannominato per di giorno. Il poveretto aveva un difetto, dimenticava spesso cose, oggetti e appuntamenti. Insomma era uno smemorato. Anche per questo il padre lo perdonava e lasciava che vivesse la sua vita come più gli piaceva. Un giorno, convocato in tribunale per una diatriba in cui era coinvolta la sua famiglia, pregò la cameriera di svegliarlo presto, per potersi vestire come più gli piaceva e fare bella figura. Toc toc, prego signore si alzi, disse la cameriera. Oh, è già mattino? Rispose Giovannino. Sì, signor Giovannino, si alzi, è in ritardo. Giovannino, dopo una doccia veloce, si vestì, mettendosi i pantaloni color cannella, la camicia blu e la giacca a quadretti verdi e gialli strette in vita e a doppio petto. Poi, con un gran sorriso, si ammirò allo specchio. Oh, manca qualcosa! Oh, sì, il mio farfallino rosso! Avviandosi alla porta, si mise il monocolo all'occhio destro, prese il bastone e si avviò verso il tribunale. Il tragitto da fare non era lungo e fischiettando, si incamminò sul marciapiede. Passando davanti all'edicola, si fermò a prendere il giornale, pagò e poi allegramente riprese la sua strada. Ehi, signore, ha dimenticato il suo giornale, disse l'edicolante. Tanti saluti, signore, a domani, rispose Giovannino. In effetti, Giovannino, avendo un udito un po' scarso, pensava che il gesto fosse un saluto dell'edicolante e arrivò in tribunale in ritardo. Sei un ritardatario ed uno sbadato, ma che figlio generato, disse il padre. Terminata l'udienza, tutti se ne tornarono a casa. Intanto il cielo si era rannuvolato ed una luce strana non prometteva nulla di buono. Presto sarebbe piovuto. Infatti, un lampo seguito da un forte rombo annunciò il temporale ed una pioggia improvvisa cadde fitta, 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 bagnando tutto. Giovannino cercò il suo ombrello. L'aveva dimenticato in tribunale. Oh, povero me, l'ho dimenticato. Ma sì, non importa. È bello camminare sotto la pioggia. Saltellando tra le pozzanghere si mise a correre felice. Il poveretto non aveva però tenuto conto delle sue grandi scarpe, inciampò e patapunfede. Si ritrovò con le gambe all'aria e il di dietro bagnato. Vergognandosi per la figuraccia si rialzò di botto. Tutti ridevano. Cori signori, fatevi i fatti vostri, disse Giovannino. Qualcosa però lucicava nella pozzanghera. Era il suo monocolo. Un gruppo di ragazzini, vedendolo in quello stato, scoppiarono a ridere sbeffeggiandolo. Giovannino indispettito li ammonì, alzando il bastone verso di loro. Nella foga rabbiosa il bastone cadde a terra. Lui rincorse i ragazzini dimenticando il suo oggetto preferito sul marciapiede. Ormai tutto a fradicio. Lo sfortunato si riparò sotto un androne e attese che il tempo migliorasse. Infreddolito e affamato guardava speranzoso il cielo. Finalmente il sole sbucò dalle nuvole e cessò la pioggia. Giovannino rincuorato e allegro tornò a casa. Senza il bastone, il monocolo, l'ombrello, con la giacca slacciata e il farfallino a sghimbescio. Era comunque felice. Aveva trascorso una giornata diversa dal solito. Care bambine e cari bambini, ragazze, ragazzi, mamme, papà, zie, zie e nonni, questo può essere un bellissimo momento da vivere insieme scoprendo mondi incantati e personaggi strampalati. Io resto a casa con i libri di Gianni Rodari. Fatelo anche voi.